Vediamo ora come l'altro pilastro della terapia delle malattie cardiometaboliche ed in particolare della prevenzione del diabete rappresentato dall'attività fisica possa essere inserito nella nostra vita quotidiana. Purtroppo oggi ci sono pochi lavori che hanno un dispendio energetico in termini di attività fisica. Facciamo tutti una vita piuttosto sedentaria, pertanto è necessario escogitare delle strategie che ci permettano di fare una certa quantità di movimento. Nelle linee guida di prevenzione delle malattie cardiometaboliche e nella terapia del diabete si parla di un'attività fisica di circa 150 minuti durante la settimana. Se noi pensiamo a questi 150 minuti distribuiti nell'arco di 6-7 giorni diventano circa 30 minuti al giorno. Non è necessario che questi 30 minuti siano fatte in maniera continuativa. È anche sufficiente che si possono fare delle ripetizioni di 10 minuti più volte al giorno. Penso per esempio a avere la possibilità di parcheggiare l'automobile ad una certa distanza dal posto di lavoro e per esempio fare una camminata di 10 minuti la mattina e 10 minuti alla sera per andare a prendere il mezzo di trasporto che normalmente utilizziamo per recarci al lavoro. Ma può essere anche l'utilizzazione delle scale piuttosto che l'utilizzazione dell'ascensore o l'utilizzo della bicicletta per recarsi in centro. Qualora queste cose non siano praticabili quotidianamente allora è bene ritagliare degli spazi dedicati all'attività fisica che possono essere delle attività strutturate nell'ambito di palestre come per esempio il pilates piuttosto che la ginnastica a corpo libero ma può essere anche l'attività fisica aerobica propriamente detta praticata all'aria aperta che sicuramente è molto più salutare che non praticare che non in ambiente chiuso e quindi la corsa, la camminata veloce, la bicicletta ma anche il nuoto e vorrei anche spendere una parola per quanto riguarda per esempio il ballo e il ballo di coppia che è uno di quelle attività aerobiche che permettono un alto dispendio energetico. Ecco tutte queste attività possono essere inserite dalle 3 alle 4 volte durante la settimana con una tempistica che va dai 40-45 minuti. È importante poi alternare l'attività fisica aerobica con attività di forza al fine di potenziare la massa muscolare e quando parlo di attività di forza intendo il sollevamento di piccoli pesi o la ginnastica mediante le utilizzazioni di piccoli attrezzi quali possono essere appunto pesi da un chilo, bottiglie e che andrebbe fatta almeno 2-3 volte alla settimana. Questo permette di rinforzare non solo la muscolatura ma anche i tendini e quindi le anticolazioni e questo poi ha tutta una cascata di eventi che è la prevenzione delle cadute. L'attività fisica inoltre, se praticata con regolarità, ci permette di produrre una serie di ormoni endogeni che sono le endorfine che aumentano la sensazione di piacere e quindi è utilizzata come prevenzione per esempio negli stati depressivi e permettono all'individuo di vivere meglio in società.